Il tuo uovo! Grazie! Assaggiamo e vediamo com'è questa prima portata. E ti manca, caro? L'ho messa con la porchetta. E a me è un cucchiaio. Ecco là! Leonardo ha un problema. Prego. È una porchetta. Sì, la porto subito. Scusate, ma avete messo l'uovo a Giuseppe con la porchetta e la selezione all'altro con il cucchiaio. Scusate, non guardate quelle robe lì. Dai, fuori! Scusate, non guardate. Scusate, non guardate. Alla prossima. La storia è un buon compleanno. Tipo, la sportiva è un buon lavoro. Scusate, non guardate. Quindi, come? Scusate, non guardate. Scusate, non guardate. Ma controllo. Anche, non guardate. Grazie a tutti. Grazie a tutti.